E questi erano alcuni dei fumetti migliori e peggiori del 2020, un anno veramente molto particolare, da chi mai si sarebbe potuto aspettare che il noto conduttore Amadeus a settembre 2020 sarebbe diventato donna. E anche una donna bellissima, tra l'altro. Ma arriviamo alla fine di questo video, al momento clou, ovvero al fumetto migliore che si è concluso nel 2020, secondo me è un fumetto che mi ha lasciato a bocca aperta ed è assolutamente discesa all'inferno di Garth fottuto Genio Ennis e del croato Goran Suzuka. Completo in due cartonati pubblicato dalla Saldapress, cartonati a 19 euro e 90 all'uno, tutto hopla a colori. Alcuni agenti dell'FBI sono eroici caccettori di serial killer, altri sono razionali e tenaci detective dell'occulto. Ma non Shaw e McGregor, i protagonisti di discesa all'inferno. Shaw è esperta e disincantata, ha un esaurimento nervoso ed è tormentata dal suo passato. McGregor è ancora un idealista, anche se il mondo sembra impegnarsi al massimo per fargli cambiare idea. Dovranno indagare sua scomparsa di due loro colleghi in un magazzino di Long Beach. Purtroppo capiranno, prima che la notte abbia fine, che l'orrore può nascondersi ovunque e che gli errori commessi, prima o poi, devono essere pagati. Con questa storia, Gartennis prende il lettore per un orecchio e lo trascina in una vicenda assurda e piena di mistero. Vi garantisco che non capirete dove lo scrittore vorrà portarvi finché non sarà lui stesso a rivelarvelo verso la fine. Sì, perché uno dei grandi punti di forza di questa storia è la domanda che vi perseguiterà per tutte le pagine finché non arriverete al fondo. Ovvero, che cazzo sta succedendo? Ennis, come il migliore dei prestigiatori, disseminerà di trappole tutta quanta la storia, quindi ti farà credere esattamente quello che lui vuole che tu creda. Quando a un certo punto cercherete di capire cosa sta accadendo e penserete di aver capito, in realtà Ennis cambierà le carte in tavola e vi porterà su un'altra strada. E solamente quando avrete finito il volume riuscirete a capire che in realtà Ennis la soluzione ve l'aveva data e nascosta tra le pagine del volume. Voi l'avevate letta, ma probabilmente non l'avevate capita. Almeno io vi garantisco che non l'avevo capita e quando l'ho capita sono rimasto a bocca aperta. Altro punto di forza di quest'opera è la tensione. È un'opera piena di dialoghi, quindi non vi aspettate grandi scene d'azione, perché in realtà ci sono pochissime scene d'azione. Ci sono molti, molti, molti dialoghi, ma nonostante questo Ennis riesce a mantenere perfettamente la tensione pagina dopo pagina e vi assicuro che quando avrete finito il primo volume non riuscirete a resistere, vorrete assolutamente sapere dove continuerà questa storia e dove diavolo starà andando a parare. La tensione è altissima, appunto, pagina dopo pagina e il ritmo non mancherà. Ma più nel concreto, di cosa parla la trama? Parla appunto di questi due agenti, Sow e McGregor, che entreranno in un magazzino per cercare due loro colleghi. In questo magazzino capiterà di tutto e di più, però il volume è diviso in due archi temporali, ovvero vedremo il presente, quindi questo Sow e McGregor dentro questo magazzino, ma vedremo anche un'indagine che hanno fatto, che a poco tempo prima, proprio questi agenti di polizia. Un'indagine su un pedofilo, su una scomparsa di dei bambini, quindi un argomento anche molto crudo e molto teso. È pur sempre un fumetto di Ennis, quindi non mancheranno le scene crude, però tutto sommato, rispetto ad altri suoi volumi, non sono così tante le scene splatter, fondamentalmente. C'è giusto qualche scena a un po' di impatto, ma niente di così esagerato. Ennis in questo volume non vuole scioccare con le immagini forti, ma vuole trascinarti in un percorso molto intelligente, molto ben studiato, sempre appunto permeato di tensione di questo mistero, perché non capirete veramente fino alla fine cosa sta accadendo, ma soprattutto un percorso pieno di messaggi, perché un'altra cosa che mi ha colpito molto è che questo volume è pieno di messaggi umani e che faranno molto riflettere. C'è una grande, grande, grande critica all'attuale amministrazione degli Stati Uniti, quindi a Donald Trump. E chissà com'è reggito Cartennis quando a luglio 2020 è saltato fuori che Donald Trump ha un'attrazione sessuale per i pinguini. Però appunto, oltre ai messaggi politici, c'è anche un messaggio umano, un messaggio sull'umanità, ma soprattutto che è un messaggio, un ragionamento sull'umanità, veramente molto interessante, che mentre all'inizio può sembrare un po' buttato lì, dopo acquisirà tutto quanto un senso con andare avanti della storia. I disegni non mi sono affatto dispiaciuti, non c'è nulla che mi ha fatto particolarmente urlare al miracolo, ma secondo me fa perfettamente il suo lavoro. Quindi appunto, quando c'è da esagerare, tra virgolette, quindi quando c'è da rappresentare magari qualcosa di mastodontico, l'autore, il disegnatore, Goran, lo fa assolutamente senza risparmiare particolari, ma quando c'è da fare delle scene anche un pochino più semplici, perché già la trama è abbastanza intricata di suo, le scene appunto rimangono chiare, limpide e assolutamente non confuse, perché essendo un volume effettivamente con una trama da seguire molto bene, se ci fossero stati anche dei disegni confusi sarebbe diventato veramente complicato e forse pesante seguire la trama, invece i disegni secondo me accompagnano perfettamente il tipo di storia. Ma quindi possiamo definire questa storia perfetta? No, in realtà anche in questa storia c'è qualche piccola criticità, una cosa che mi ha dato un pochino noia sono alcuni dialoghi troncati, ovvero Gartenis per diverse volte durante la storia fa questa cosa. Ma quindi tu sei... Sì, sono esattamente io. Ma quindi hai fatto... Sì, l'ho fatto. Ma lasciagli finire la frase! Sì, Gartenis gioca con questa cosa forse qualche volta di troppo. Risulta un po' esagerato quando un personaggio sta praticamente rivelando quasi tutto che l'altro personaggio lo interrompa per non fargli continuare la frase. Immagino che Gartenis abbia fatto questa cosa apposta per far rodere i lettori, perché veramente in tutto quanto la storia si sente la mano di Gartenis e lo dico nel senso buono, si sente il fatto che lui voglia darti un indizio ma poi te lo tira subito indietro, quindi anche questa cosa di interrompere le frasi, soprattutto delle frasi salienti in cui si rivelano delle cose importanti, immagino che l'abbia fatto proprio apposta per quasi dar fastidio al lettore, per far crescere ancora di più la curiosità e anche un po' il nervoso di capire che diavolo stia succedendo. Detto ciò però questa storia mi è piaciuta tantissimo, non mi sarei mai aspettato il finale, mi ha sorpreso molto, mi ha incuriosito, sappiate ve lo dico subito, non è uno spoiler, non vi preoccupate, ma comunque che è una vicenda in cui ci saranno degli elementi sovrannaturali che tendenzialmente, se mi seguitene un po' lo sapete, io non amo troppo il sovrannaturale, ma non per altro, semplicemente perché spesso risulta un pizzico paraculo, ovvero a volte arriviamo alla fine di una trama con elementi sovrannaturali in cui molte cose non ci sono state spiegate e la spiegazione è, eh mistero, eh sì mistero però che paraculata, invece qui no, qui ci viene spiegato praticamente tutto, questo l'ho apprezzato un sacco, l'ho apprezzato il fatto che Ennis abbia messo tanta carne al fuoco, ma sia stato in grado di gestirla tutta quanta, quindi questo l'ho apprezzato veramente tantissimo, a memoria non lascia nulla in sospeso e c'è anche un bel finale molto 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 interessante, quindi sì ragazzi, questa secondo me è la storia più bella che si è conclusa nel 2020, io vi ringrazio per aver guardato questo video, ah e vi ringrazio anche per il fatto di essere arrivati a fine 2020 con 10.000 iscritti, grazie mille, vi invito qualora voleste ad iscrivervi a questo canale, trovate in descrizione tutti quanti i link per i miei social, vi ringrazio per aver visto questo video di fine 2020 sulle letture migliori e peggiori di questo assurdo anno che è appena passato e noi ci vediamo nel 2021. Ciao! 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 Ciao!